buongiorno vediamo adesso come inserire un elenco di selezione quindi un campo elenco di selezione all'interno di un modulo prendo i lead apro un lead vedo che nell'indirizzo ho la provincia che è un campo libero un campo libero che mi permette di fare anche degli errori se faccio scrivo stessa provincia con dei nomi diversi sbagliando una lettera o altro dopo non riesco a fare i corretti filtri allora voglio inserire un campo di selezione quindi un elenco fisso in cui posso solo scegliere delle voci con le sigle delle province come faccio vado su configurazione moduli e campi id vado a inserire un elenco di selezione l'elenco di selezione lo chiamo sigla posso mettere le varie opzioni e metto mano oppure ho un'alternativa che aggiunge opzioni di massa voce manuale appunto mi dice inserisci modo sequenziale mi sono preparato un excel ho messo tutte le province italiane copio e incollo incollo all'interno a questo punto aggiungi scelte vedete se sono aggiunte tutte tolgo le due prime opzioni che non mi interessano mi chiede voglio mettere un valore definito nessuno predefinito se il campo obbligatorio o meno soprattutto mi chiede voi questo questo elenco anche per le aziende contatti mi interessa così quando metterò all'interno un'azienda se riesco metto la provincia e il contatto metto la provincia salva layout a questo punto vado a vedere vedete come nel campo le informazioni indirizzo ho la sigla provincia a questo punto metto la v vi da tutte quelle che contengono una v prendo verona salva in questo modo non ho la possibilità non posso sbagliare inserire una provincia sia almeno che non sbaglio completamente la provincia ma non posso scrivere stessa provincia con delle sigle diverse quindi poi quando questo campo mi sarà utilissimo per poter fare dei filtri questo scampo lo troviamo anche visto che l'ho deciso di inserirlo lo troviamo anche nei contatti e lo stesso campo l'ho fatto l'ho inserito all'interno dell'azienda ecco questo mi servirà per fare tutti i filtri di cui avrò bisogno all'interno dell'azienda ecco questo mi servirà per fare tutti i filtri di cui avrò bisogno all'interno dell'azienda ecco questo mi servirà per fare tutti i filtri di cui avrò bisogno all'interno dell'azienda ecco questo mi servirà per fare tutti i filtri di cui avrò bisogno